Manu Renaudì, alla fine sei il più contento o deluso del risultato finale? Dopo che sei stato sempre davanti, sei stato davanti anche questa volta, non davanti a tutti, però il ritmo era quello giusto. No, no, io sono contento anche perché è sempre difficile vincere una gara comunque, perché... No, io sono contento di aver vinto le due manchieri così, beh un po' deluso da una parte sì, perché c'è almeno il podio, pensavo farcela. Invece, oh, è stato un po' difficile, poi... Sbaglio o ti ho visto un po' me... poi magari mi sbaglio sicuramente, non capisco niente, eri meno rilassato col volante. Quindi sicuramente sbaglio, avevi problemi di telaio? Qualche cosina, perché non eri così fluido nella guida. Com'è che hai detto, ma quello lì vai a? Vai a cagare. No, no, non ho detto che vai a cagare, ho detto che non capisci un po' di messa, che più o meno. È bello essere valorizzati, essere comunque ritenuto da una persona che ne sa nel pad, ok? Ma non tocca anche che sei bruciato oggi. No, guarda, se mi tocchi pigli fuoco. E qui sai che... Basta. Andiamo a vedere. No, beh, un po'... Un po' di telaio, porca... No, beh, sì, un po' di telaio, un po' di motore, sai come c'è... Tutto insieme. Quando vedi che gli altri, appena un po', riescono appena un po' di andare via, anche te vai a forzare un po' di più. Dopo sei lì e te la giochi. Quindi non è facile. Eh, no, a me lo dici, che io non riusci neanche a qualificarmi per la griglia del parco. La gagliata? Ma è meglio, è meglio così. No, qui non parliamo di grigliata, è che è meglio. No, qui non parliamo di griglia.